oh salve popolo di youtube allora chiediamo subito una cosa se avete cliccato su questo video pensando che adesso inizierò a sproloquiare sul nuovo monkey island dicendo che ha una grafica bruttissima che non riflette lo spirito dei vecchi monkey island bene potete ritenervi delusi perché non dirò nulla di tutto questo anzi posso dirvi che sono completamente in disaccordo con questo pensiero secondo me non ha assolutamente senso fare paragoni tra lo stile grafico del nuovo monkey island quello che si è visto nei trailer con quello del vecchio monkey island perché ha una ha un altro feeling tutte cavolate che sinceramente a me non interessano anzi vi dirò di più quello che non esprimerò giudizi su questo nuovo gioco diciamo che dopo aver visto tutto il materiale che è uscito fino adesso screenshot trader via dicendo io non ho nessuna opinione non dirò niente non mi esprimo sulla qualità né del gioco e non dirò neanche quello che mi aspetto da questo gioco tranne per una cosa sola non dirò niente per la semplice ragione perché questo gioco per me ancora non esiste quindi io vedo dei trailer sì ok magari mi posso fare una piccola idea però sinceramente io non do giudizi non faccio speculazioni non dirò non dico e non dirò niente su questo gioco finché non l'avrò giocato e provato probabilmente io lo comperò il giorno in cui uscirà lo giocherò subito sono molto curioso di vederlo e di provarlo e conoscendo ron gilbert sapendo come lavora sono sicuramente convinto che il suo gioco sarà sicuramente qualcosa di interessante non so se sarà bello non so se sarà brutto non mi sto facendo nessuna idea su questa cosa quindi non so non so se io stesso lo considero bello col brutto chi se ne frega non lo so finché non lo gioco io non ne parlo e quindi a questo punto vi chiederete ma allora scusami se tu sei un appassionato di avventure punte clicca spassionato anche di avventure lucasar perché effettivamente lo sono forse qualcuno non lo crederà possibile ma lo sono se sei stato fan di monchian perché non sei entusiasta di questo nuovo gioco che ovviamente è il ritorno il grande ritorno di ron gilbert il grande ritorno di monchian perché non sei entusiasta di questa cosa beh allora le diciamo che ci sono diversi motivi per il quale non sono entusiasta di questo gioco entusiasta come dicevo prima non vuol dire che non credo che credo che sarà brutto assolutamente no il giudizio di valore lo lascio a qualcun altro non è questo è una cosa un pochettino diversa un pochettino sottile adesso proverò a spiegarvelo allora prima di tutto il primo motivo l'ho praticamente già detto nel senso che non ho tante come posso dire non non mi sono ancora farmi sono espresso su questo gioco per la semplice ragione che il gioco ancora non esiste a parte quelle persone con cui ci stanno lavorando la gran parte delle per delle persone che abitano il globo terraqueo non non lo possono giocare non lo possono vedere nella sua completezza quindi per me questo gioco ancora non esiste a me inizierà a esistere solamente il giorno in cui uscirà e io potrò giocarci e quindi qualsiasi giudizio qualsiasi analisi che qualsiasi valutazione qualsiasi diciamo sia appunto analisi la farò solamente a gioco completo e non su del materiale di marketing che può essere un trailer uno screenshot che dice non a me speculazioni proiezioni pensare come sarà il gioco a me sinceramente non interessa per niente qualcuno di voi invece non sarà d'accordo io invece per me è così per una semplice ragione che potrà sembrare molto radicale ma io in questi ultimi anni sto abbattendo completamente anzi ormai è già abbattuto non mi interessa già più niente il concetto di hype cioè l'hype cioè quell'aspettare quel crearsi delle aspettative su dei prodotti che devono ancora uscire a me sinceramente è una cosa che inizia a disgustare non piace più non lo voglio più fare per la semplice ragione perché è diventato uno strumento nell'ambito soprattutto nell'ambito di videogiochi è diventato uno strumento di marketing che sinceramente io non condivido appieno neanche con le produzioni indie neanche con le produzioni diciamo piccole non lo condivido per niente perché per una serie ragione molto semplice che potrebbe essere diciamo non condivisa da tutti ma perché praticamente quando una persona vede un trailer qualcosa si fa un'idea del prodotto che uscirà e quell'idea però diciamo una sorta di virus di germe che rimane nella testa e quando quel gioco quel prodotto uscirà inevitabilmente quando andremo a giocare applicheremo quell'idea che ci siamo fatti in precedenza su quel gioco lì andando a drogare in un certo senso il nostro giudizio io non voglio farmi innubilare il mio giudizio su un gioco di questo genere dall'idea che posso farmi guardando un trailer e via dicendo ovviamente una piccola idea ce la si fa ovviamente perché quando si vede una cosa si leggono interviste perché alla fine qualcosa cosa ho visto qualcosa ho letto un po il cervello gira e quindi qualcosa almeno si fa però in realtà voglio tenermi il più vergine possibile voglio che la mia mente sia una tabula rasa quando gioco questo gioco qui e qualsiasi altro gioco in realtà perché non voglio che la mia analisi la mia percezione del gioco sia in come posso dire inquinata da delle idee che mi sono fatte pregresse è una mia idea posso capire che non sia condivisa a tutti però io ce l'ho e questo è il primo motivo il secondo motivo e questo forse magari è quello che un po magari potrebbe diciamo essere un pochettino più difficile da accettare o comunque andando in disaccordo con molti degli appassionati avventure punto clicca come voi è che io sinceramente dei grandi ritorni il grande ritorno di un franchise di un autore di un game design viene dicendo ormai di queste cose io ne ho piene qua e sono trent'anni che giochi videogiochi e dei grandi ritorni reboot seguiti usciti ed anni dopo remastered remake e via dicendo ormai io la magia in un certo senso di questa cosa per me si è completamente esaurita quindi quando quando mi dicono il grande ritorno delle avventure punto clicca grande ritorno del vecchio diciamo dei designer queste cose le ho già vissute basta non ne posso più abbiamo già vissuto il ritorno di team shaffer parlando di avventure punto clicca solo di avventure punto clicca abbiamo visto già il ritorno di team shaffer abbiamo visto il ritorno di cecil con broca suora abbiamo visto il ritorno di jane jensen con moebius abbiamo visto già il ritorno di ron gilbert con timboli timboli park che era un gioco che parlava metteva al suo interno il discorso della nostalgia e quindi secondo me basta c'è nel senso non ho tutta questa voglia di rivedere il ritorno e qualcuno dirò ma si parla di monkey island il ritorno di monkey island finalmente la fine finalmente un continuo sì 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 è vero c'è il ritorno alla fine bello quanto vuoi ma io basta anche perché monkey island io ne ho sentito parlare per una vita abbiamo parlato di monkey island un sacco di gente c'è fatta diciamo delle dei film analisi e tutta una serie di diciamo teorie di cose che sinceramente a me non interessano più di tanto devo essere sincero diciamo che da un certo punto di vista mi si è spenta un po la magia diciamo su questo tipo di cose magari su altri ancora sono un po diciamo vivace ancora ho voglia di scoprire di vedere ma su questi ritorni su questo ritornare sui vecchi non sento più quel quel bisogno di averlo ormai l'ho fatto l'abbiamo visto a prescindere di di tutti questi ritorni che abbiamo visto a prescindere che si fossero deludenti o belli o quello che è a prescindere da questo proprio il concetto di vedere una vecchia cosa che torna oggi oggi basta l'ho vissuta mille volte la continuo a vivere ancora oggi perché ancora oggi vengono fuori i prodotti che si rifanno la nostalgia si rifanno cosa beh basta questa cosa a me non è come dicevo prima saturato e quindi non mi interessa più e qui diciamo queste sono leggermente le due ragioni per la quale non ho tutta questa gran ansia di vedere e sulla quale poi non mi sono perché ancora non mi sono espresso su questo sul giudizio di questo gioco a meno ammesso che qualcuno di voi interessi questa cosa però insomma diciamo che ho approfittato diciamo di questo di questo argomento per fare questo video per appunto mettere insieme questi pensieri che ho perché secondo me era interessa già interessante comunque poteva essere diciamo uno spunto interessante anche di discussione l'ultima cosa in questa l'ho scritta anche qui nel titolo secondo me questo ritorno di questo gioco ritorno monchi island non sarà un evento attenzione questa cosa anche questa potrebbe creare un po di scontro no in realtà non sto dicendo che non sarà un evento nel senso per qualcuno di noi e qualcuno di voi qualcuno di noi appassionati di avventure che punte clic appassionati di monchi island sicuramente sarà un evento perché effettivamente se una persona aspetta questa cosa lo capisco bene una persona aspetta questa cosa da una vita logicamente sarà un evento questo non voglio dire di no non è questo perché io intendo non sarà un evento dal punto di vista oggettivo dal punto di vista soggettivo potrà sicuramente essere un evento dal punto di vista oggettivo quindi diciamo in generale questo gioco non sposterà nulla non credo proprio che sia una pietra migliare non sarà diciamo una pietra nell'evoluzione del genere delle punte clicca per una diciamo perché per una serie molto lunga di ragioni il genere è un'altra cosa il genere è cambiato il genere non esiste più fondamentalmente almeno non esiste più in quel modo che conosciamo prima quindi sono molto curioso di vedere quello che farà ron gilbert contando e sapendo come lavora so che l'argomento della nostalgia l'ha già trattato con di timbre di parga quindi questo monkey island sarà qualcosa di nuovo su questo sono sicuro ammiccherà un po il passato ma sarà sicuramente qualcosa di nuovo e quindi ma nonostante questo sarà qualcosa di nuovo ma non sarà qualcosa che detterà legge non sarà il nuovo corso delle punte clicca perché so già che adesso sulla stampa qualcuno si lancerà a dire le nuove punte clicca il ritorno il genere che ritorna che non deve ritornare non è mai andato via sempre questo quindi non deve ritornare fondamentalmente perché non è mai andato via in più siamo in un'epoca in cui abbiamo la punte clicca ormai è già dal 95 in poi diventato quasi praticamente una nicchia e quindi è una nicchia della nicchia no dei giochi indie giochi narrativi abbiamo mille cose di giochi narrativi il ritorno di monkey island sicuramente sarà qualcosa di importante per chi ha amato questo genere per chi ha amato soprattutto la saga di monkey island ma non sarà un gioco che sposterà i monti non sarà una pietra migliare non sarà la nuova luce la nuova via per i giochi narrativi su questo ne sono abbastanza convinto quindi quando dico che non sarà un evento intendo questo quindi non ritenetevi offesi se pensate che no in realtà un evento perché ritorna ma che sì ok è un evento per chi ama mon chi ama però nel generale se vediamo la cosa al di fuori del genere le punte clicca non è non sarà poi questa gran cosa senza nulla a togliere poi al gioco è perché come detto prima non voglio questo quello che ho detto qui non sono diciamo giudizi sul gioco assolutamente no ho giudizi sull'operazione assolutamente no assolutamente no io sono come dicevo quando uscirà il gioco sarà molto curioso di giocarci sarò uno dei primi ad acquistare primi non so se sarò uno dei primi però insomma lo acquisterò subito lo giocherò subito e darò anche la mia diciamo opinione per chi sarà interessato a sentirla e niente quindi ho fatto questo piccolo video non per creare polemica ma semplicemente per focalizzare alcuni alcune cose che sinceramente un po secondo me sono interessanti anche come argomento e anche un po anche per focalizzare un po quello che era il mio pensiero su questa cosa quindi niente per adesso vi ringrazio se avete ascoltato mi dispiace se qualcuno di voi sarà ritenuto offeso spero di no non volevo offendere nessuno però insomma ho insomma ho espresso diciamo quello che pensavo grazie di tutto e ci vediamo alla prossima